E poi la puntiamo nella valle più Comunque sono dei ghiasini Ma venga! Scusi, quarto costa il pesce! Ci fanno vedere questa discesa a foglia morta Certo! Un cosiddetto aereo? Ok Comunque Fia! Ok Rolf! Buon posto! Bene, bene! Ho visto la montagna! Un po' in ritardino Vediamo gli snowboarder in azione sotto il pinetto innevato e in lontananza i nostri amici sci alpinisti Vi invitiamo per la prossima volta a portare tutti i geni di confort Yeah lo Stefano! Allora ragazzi come siete messi? Ecco la nostra guida Grande! Sei un mito! E vediamo quello che ci aspetta Bravo! Vedi? Quello è snowboard! E ecco questa! Lampeggia! Io ce l'ho ma la mia eh! E mi ha un pochino E le scise Dopo sei bottiglie di rosso Roby fa Devo guidare io dopo quindi posso La rodina va la Yumpa Siamo quasi a San Simone Abbiamo appena passato Val Leve ci stiamo appropinquando per la famosa stazione scistica della Val Brembana per fare questa due giorni di snowboard alpinismo estremo vero? Questo è lo staff Il driver Frena però Il proprietario del veicolo e il navigatore Salute la rosina Scusi! Quanto costa il pesce? Scusi! Sciatori all'opera Ecco disquisizioni sulla traccia E noi ragazzi? Baita! Puoi dire una frase che passerà la storia? Nel momento non sono in condizione Sorta ragazzi! Bellissimo Un momento di vento violento Siamo nel mezzo del canaletto Yeah! Polvere! andiamo alla caccia di un versante simpatico lo troveremo chi lo può dire state con noi lo scoprirete direzione austria luce verde marinella sei salva puoi andare sciatori in fase di salita sei concentrata ti lasciamo andare la salita marinella in fuga è seguita proprio a ruota ecco a voi in arrivo l'uomo zuccherino l'ho preso ma non per via orale questa parte verrà censurata direi voi due cosa avete combinato la mia tavola è arrivata salva me l'ha portata il mio amico paolo che vuole imparare a snowboardare comincia così comincia a portare la tavola e poi dai se fai il bravo al prossimo giro ti faccio portare le ciaspole continuiamo ad avanzare stefano ma chi è il nostro capogita oggi è davide e dov'è davide verso la salita del monte finai da solo ha detto che sono sabbie mobili detto tra noi per me il nostro capogita si è perso dove dobbiamo andare capogita esatto vediamo lo stefano in un passaggio definito quarto più più meno meno a a b declassato lo spread è andato a questo punto sulla montagna non c'è nessuno andiamo a bere la birra ragazzi cari amici che ci seguite da casa guardate la macchina degli istruttori com'è conciato gli allievi freddolosi ma quanti gradi abbiamo all'esterno circa 28 gradi 28 gradi e la paola cosa si è messo lei è fredda dentro è una donna fredda dentro è un serpente è un serpente grazie a tutti